Buongiorno e bentrovati Buongiorno e bentrovati Buongiorno e bentrovati Buongiorno e bentrovati I carabinieri rubano di notte troppa libertà per i minorenni Il comandante provinciale dei carabinieri Marco Riscaldati Fa il punto sulle indagini relative al recupero di 7 biciclette rubate da altrettanti giovanissimi Tra i 13 e i 15 anni, 3 dei quali sono stati denunciati dopo essere stati presi con le mani nel sacco Per Riscaldati stupisce che vadano in giro nel cuore della notte A chi commette reati in tenereità il colonnello dice rubare viene considerato un gesto banale ma lascia una piccola cicatrice Attenti alle compagnie E poi Francavilla al foro la festa con Zarrillo e Giussi Ferreri E poi ancora il calcio con il Valzer di Bomber il pescara vicino a Scamacca e pensa a Nene Sotto la fotografia, le altre notizie, la politica, Abruzzo verso le elezioni regionali Pagano di Forza Italia, Salvini non ci tradirà, serve il dialogo con la Lega E poi economia e tasse, ecco dove le imprese abruzzesi sono più tartassate dal fisco Andiamo a vedere il taglio basso dove c'è il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna Viaggiamo senza dimenticarci di Pascal La riflessione parte dalla storia di una ragazza americana di 27 anni che è riuscita a visitare tutti i 196 paesi del mondo In un anno e mezzo ha speso circa 200 mila dollari grazie a degli sponsor E questa è la storia che ci racconta Di Tanna Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro Cambiamo edizione, passiamo a quella di Chieti Lanciano Vasto Il titolo d'apertura, giro di fatture false per 190 milioni Chieti, indagine della finanza, 73 denunciati per associazione a delinquere Questa mattina ci sarà una conferenza stampa proprio nella sede del comando di Chieti Per approfondire e avere i dettagli di questa operazione della Guardia di Finanza Andiamo a vedere nelle cronache, cambio di nome, l'Ateneo dà l'ok Ma non adesso, il rettore dell'annunzio non fa passi indietro sul nuovo nome dell'università E anche il consiglio di amministrazione che aveva già, come aveva già fatto il senato accademico Lo segue in maniera compatta votando all'unanimità la giunta della parola adriatico nella denominazione Ma il cambiamento non parte da oggi perché il rettore Sergio Caputi ha chiesto di non ratificare subito la decisione Un fatto di correttezza istituzionale dice Prima voglio parlare con i rappresentanti delle istituzioni Andiamo ad Atessa adesso Lolli, i rifiuti compromettono la Val di Sangro Il caso della CIAF, ieri si è discusso ad Atessa in un incontro che c'è stato nel pomeriggio A San Salvo, musica vietata di notte, protesta sulla strada Questo per quanto riguarda anche l'edizione teatina del centro Andiamo a vedere quella teramana In apertura la politica, c'è la nuova giunta ma è polemica per quanto riguarda il comune di Teramo Scontenti i democratici, Verna e Bartolini, Cristina Marroni e vice sindaco Oggi ci sarà il consiglio comunale a partire dalle 9.30 E poi andiamo a vedere lo spazio delle cronache 22 indagati nel Teramano false residenze per ottenere la cittadinanza Sono 22 gli indagati, 10 ordinanze di divieto di dimora per altrettanti titolari di agenzie di intermediazione 12 richieste di misure interdittive per vigili urbani ufficiali di Stato Civile Dei comuni di Notaresco, Pineto, Roseto e Castellalto A due anni dall'avvio delle indagini l'operazione Cidadania Cittadinanza in lingua portoghese Mette un punto fermo nell'inchiesta sulle residenze fittizie per ottenere la cittadinanza Tramite naturalizzazione da parte di brasiliani che vantano avi italiani Continuiamo a Giulianova, campane a festa al funerale del parroco E ancora Martinsicuro, insulti e minacce alla ex moglie viene arrestato A centropagina il nuovo centrocampista del Teramo Il giovane Persia si racconta, io Totti E la Roma, Totti la Roma, l'incubo e la rinascita Angelo Persia che vedete nella foto con il DS Federico E un nuovo centrocampista del Teramo Ma quanta fatica per strappare il primo contratto da professionista A vent'anni lascia l'avezzano e approda in Serie C nel club di Luciano Campitelli Per provare a mettersi in mostra anche in Lega Pro Andiamo a vedere adesso l'edizione aquilana del quotidiano Il Centro La prima pagina apre così, grandi rischi, assolto Guido Bertolaso L'Aquila, l'accusa di false rassicurazioni, cade anche in appello E poi nelle cronache il Consiglio di Stato Rocca di Mezzo torna alle urne, annullato il voto Andiamo a vedere perché nelle elezioni comunali Che si sono tenute un anno fa e che avevano visto prevalere di 10 voti Il sindaco uscente Mauro Di Ciccio sullo sfidante ed ex sindaco Emilio Nusca Dunque il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Di Ciccio E dal consigliere Polo D'Amico contro la sentenza del TAR Che aveva annullato la consultazione elettorale dopo una serie di verifiche su schede verbali Ci spostiamo ad Avezzano, aeronatica e tangenti Sette anni a Sabetti e poi a Sulmona autobus urbani gestiti da TUA Si cerca l'intesa A centro pagina l'Aquila, il decreto terremoto è fermo alla Camera Restituzione delle tasse, rinvio allarmante per la proroga Nulla di fatto, il decreto terremoto che prevede al terzo punto lo slittamento dei termini Al 23 settembre delle tasse da restituire è fermo alla Camera La discussione si è protratta fino a tarda sera Poi il rinvio ad oggi per l'approvazione del documento Che dovrebbe consentire all'impresa Aquilane la proroga per la procedura di recupero Ci spostiamo sul messaggero, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo Terremoto assolto Bertolaso, il titolo di apertura del giornale L'ex capo della protezione civile è scagionato in appello per il mancato allarme sul sisma La sentenza fa cadere definitivamente la possibilità di chiedere il risarcimento danni E poi la cronaca con l'operazione della guardia di finanza Pescara Blitz della finanza scoperta la filiera dei giocattoli illegali Scendiamo a centropagina, droga in vacanza Trovato morto un giovane turista, Martinsicuro Il ragazzo senza vita in bagno non risponde alla fidanzata che lancia l'allarme Poi a centropagina c'è anche la fotonotizia con l'università Chieti nel CDA passa la linea del rettore Caputi Ufficiale l'Ateneo diventa Adriatico Passa la linea dettata dal rettore Con la modifica del nome che sarà operativa Come abbiamo visto più avanti Andiamo a vedere di spalla Si parla di tasse, Montesilvano, Sulmona e Roseto Fisco Tiranno Questi comuni dove le tasse sono più esose Le imprese iniziano a lavorare per sé soltanto dalla fine di agosto E poi nel taglio basso Teramo Passaporti facili, 10 sotto inchiesta Abbiamo visto anche in precedenza L'operazione della squadra mobile Coordinata dalla procura teramana E poi le altre notizie del taglio alto Spettacoli, Bosso e Guidi A Pescara sul palco di Estatica Bruzzo, Maiella L'estate nel regno incontaminato di Madrenatura E la Serie B Pescara all'ora del rilancio Per l'Edian Memushai Il centrocampista albalese E' tornato al Delfino dopo un anno al Benevento Sono assolutamente sicuro Dice che riusciremo a fare un grande campionato Queste le parole di Memushai Andiamo sulla città Il quotidiano della provincia di Teramo In apertura la cronaca Stop al business degli avi brasiliani 23 indagati per le cittadinanze facili Nei guai intermediari Dipendenti comunali e vigili urbani Andiamo a vedere anche il centropagina Con questa fotonotizia Teramo ecco la giunta del sindaco Gian Guido D'Alberto D'Alberto parte con quattro scontenti Le scelte del sindaco Creano già qualche malumore C'è l'editoriale del direttore della città Alessandro Misson La politica delle scelte Il titolo della riflessione Che propone Misson Sulla prima del suo giornale Andiamo nel taglio alto Vucumpra padroni del commercio abusivo Altro che tolleranza zero Sulle spiagge silvarole Alba adriatica Sequestrati milioni di giochi pericolosi Nell'operazione che abbiamo visto in precedenza Della guardia di finanza di Pescara Questa è la prospettiva dalla provincia terramana E poi Val Vibrata Ladri nei palazzi VIP terremotati Andiamo di spalla Giulianova in lutto Processione al porto per l'addio a Don Ennio Luca Antoni Anche Mosciano in lutto Che si stringe attorno alla famiglia di Stefano Tulli Nel taglio basso Giudiziaria rossi e neri Tutti assolti per la rissa a sprangate di Capodanno del 2014 E così abbiamo chiuso questa carrellata sulle prime pagine regionali Adesso invece andiamo ad aprire le prime pagine nazionali Andiamo a vedere i principali titoli dei quotidiani italiani Il Corriere della Sera in apertura parla di tasse Tria tasse giù Ma se si può le scelte Il ministro dell'economia Cauto su flat tax e reddito di cittadinanza La priorità è ridurre il debito Riforme compatibili con il bilancio Di Maio va all'attacco delle banche Nel taglio alto troviamo la storia Che sta facendo discutere l'Europa E non solo il caso Gli annegati e le accuse Morti in mare Dite sui migranti tra ONG e Salvini Andiamo a vedere anche la riflessione nell'editoriale La crisi di Londra L'illusione chiamata Brexit Scrive Luigi Ippolito Tornando appunto sulla questione Brexit Nel taglio basso Invece il colpo al clan di Casamonica Ora Roma come una terra di mafia 33 gli arresti Il procuratore ha giunto prestipino E dice c'era un clima di omertà Andiamo sulla Repubblica Omertà di stato su mio padre Ecco le 13 domande Che la figlia di Borsellino 26 anni dopo la strage di Via D'Amelio Fa alle istituzioni Le decisioni delle procure I giudici Il SIS dei verbali di polizia Fate i nomi di chi gestì Il depistaggio Oltre a questa notizia In primo piano Chiaramente anche la questione Migranti Sul relitto con un bimbo E una donna morti Colpa dei libici Cosa ci dicono quegli occhi Riferendosi alla fotografia Che state vedendo Scrive Marco Belpoliti E poi il caso Berlino Prepara un aiuto A Roma Nello spazio delle idee Trump il buio Dopo l'occidente E l'articolo di Ezio Mauro Andiamo sulla stampa Il titolo di apertura Il piano del governo Per la tregua Con Berlino Sui migranti Di ritorno Madre e figlio morti in mare ONG accusa la Libia Salvini E' tutto falso Verrebbero regolarizzati Grazie al decreto Decreto flussi Fatto ogni anno Poi andiamo a vedere Le altre notizie Sono mafiosi Retata a Roma Nel clan dei Casamonica Vedete le perquisizioni All'interno di uno degli immobili Sequestrato al clan Di Roma Sud Proseguiamo Lasciando la stampa Andando sul fatto quotidiano Il caso Migranti In primo piano Giallo sui due morti in mare Ecco i sei boss Che lucrano sul traffico In chiesta Appuntate sulle organizzazioni criminali Dietro le partenze La Operams Scusate Salva una donna abbandonata Su un relittro Tra due Cadaveri E attacca la Libia e Salvini Che risponde Fake news Da Ghermei Ad Ad Bassi I volti di chi si arricchisce Con la tratta Poi a centropagina Il caso Casamonica Mafia Tassi al 1000% Chi non paga Lo mangiamo vivo L'usura Gli affari Le minacce Non denuncio Nemmeno sotto tortura 37 gli arresti In questo blitz Sul clan Della periferia sud-est Di Roma Andiamo Sul manifesto Il titolo di apertura Come sempre sulla fotografia Riguarda I migranti Sicuri da morire Scrive il manifesto Non volevamo tornare in Libia Per questo siamo stati abbandonati in mare Sono morti così Secondo Open Arms Una mamma e il suo bambino Lasciati al loro destino Dalla guardia costiera libica Una seconda donna salvata per miracolo Dalla ONG spagnola Per il ministro Salvini Sponsor della Libia Luogo sicuro Sono le bugie Tra virgolette E promette Io tiro dritto Nel taglio alto L'onda grigia di Laga La legge non c'è Si parla della cementificazione del suolo Rapporto Ispra Sul consumo del suolo Ogni due ore Scompare una piazza Navona E poi per quanto riguarda il commercio Notizia che non abbiamo visto in precedenza C'è un accordo storico Sul libero commercio Tra Unione Europea e Giappone Che getta appunto le basi Per un commercio Che riguarda un terzo del PIL mondiale Nel taglio basso Altra notizia che non abbiamo visto in precedenza Vigilanza Rai Per la presidenza Un ex Mediaset Scrive il manifesto Accordo fatto Per vigilanza Rai e Copasir A vigilare sulle tv pubbliche Sarà Alberto Barachini Giovane senatore di Forza Italia Ex giornalista Mediaset Fedelissimo di Berlusconi Oggi le camere votano Quattro consiglieri Della Rai Andiamo sul sole 24 ore In apertura Credito Imposta Sud Sbloccati 6,4 miliardi Investimenti La circolare Del Viminale Recepisce Quanto chiesto Da Confindustria In caso di verifica negativa L'Agenzia delle Entrate Recupererà la somma Stefan Pan Dice Dialogo costruttivo Ora le imprese Possono ripartire A centro pagina Il commercio globale Dal 2019 Ha battuto il 95% Dei dazi Tra Unione Europea E Giappone Accordo Da 130 miliardi E poi Ancora Nel taglio basso L'audizione di Tria In commissione Al Senato Più fondi e cantieri Ma frena Su flat tax E BCE Il ministro Il reddito di cittadinanza Sostituirà Altri strumenti Poi si vedrà Come verrà impostata La questione In maniera dettagliata Il decreto lavoro In salita Le correzioni Alle causali In Parlamento Muro 5 stelle Lega Avanti Il bonus automatico Per le stabilizzazioni Passiamo adesso Su avvenire Il quotidiano Cattolico In apertura C'è il caso Migranti Sommersi E non salvati Scrive Avvenire Una motovedetta Avrebbe preso 158 migranti Ma non tutti La Open Arms Trova cadaveri E una sopravvissuta Il Viminale Parla di notizie False L'ONG Accusa I libici Lasciati morire Una donna E un bimbo E poi Tria Flat tax Se si può Di Maio Antibanche Governo Ministro realista Sulla spesa Il vice premier Arroganti Riferendosi alle banche Devono Pagarla Passiamo sul Messaggero Il quotidiano romano In apertura Titola così Morti in mare Accuse i libici Il Viminale Falso Tutti salvi ONG spagnola Punta il dito Su Tripoli Lasciati a negare Donna e il suo bimbo Ma una giornalista Tedesca Smentisce Io c'ero Nessuno E' rimasto In acqua E poi La retata Al clan De Casamonica Il DJ Baldini Tra le vittime Di usura Patto Casamonica Andrangheta Parla Una Tra virgolette Pentita 31 Di Arresti Il reddito Il piano Di Tria Ma attenti Alle risorse Di Maio Contro le banche Il ministro Dell'economia Flat tax Progressiva L'ipotesi Con il REI L'assegno Di disoccupazione Passiamo sul quotidiano Il tempo Restando ai giornali romani Niente sgomberi Siamo grillini Il titolo di apertura Salva scrocconi Il vice della raggi Getta la maschera Non cacciamo gli abusivi Lotta all'illegalità Ma che c'è pure il piano Per garantire alloggi Agli occupati Andiamo sulla verità Anche qui il titolo di apertura Profugopoli Non finisce mai I soldi dell'accoglienza Al prete Accusato di stuprare I migranti Padre Zanotti Fondatore di Oasi Riceve milioni Per occuparsi Dei rifugiati Ma adesso Alcuni ospiti Della sua comunità Sostengono Che li usi Per fare la bella vita E per comprare Favori sessuali E mostrano Foto E filmati A centropagina C'è la foto Di Matteo Salvini Mazzata sulla Lega I giudici Possono sequestrare I conti Anche alle sedi Locali C'è poi una notizia Che non abbiamo visto In precedenza Per l'ONU Grana e olio Sono peggio del fumo Tassa del 20% E photoshop Sulle confezioni Con la scusa Della salute Si impone Il cibo chimico Più redditizio Davvero una cosa Abbastanza allucinante Questa Paragonare Grana e olio Al fumo Andiamo Sul quotidiano Libero Diretto Da Vittorio Feltri Lo accusano Di blasfemia Perché usa Il rosario Preti Contro Salvini La chiesa Sprofonda nel ridicolo Appello dei sacerdoti E i vescovi Per fermare Il ministro Che giudicano Razzista Tornano alla carica Anche i PM Il tribunale Del via libera Sequestro Dei soldi Della Lega In tutte le regioni Documento esclusivo Intanto Così morivano I migranti Prima di questo Governo E poi a centropagina Oggi libero Compie 18 anni C'è uno speciale All'interno delle giornali I fondatori Raccontano La loro avventura Andiamo Sul secolo D'Italia Che riporta Il dato Degli sbarchi Meno 87% Questo è Il risultato Riportato Appunto Dalle giornali Che fa riferimento A fratelli D'Italia In primo piano Occhio a mafia Estraniere Assurdo No giallo-verde E poi Eretata Anticasa Monica Determinante Una pentita Ancora Difesa Sempre legittima Parte l'iter Al Senato Sul mattino Di Napoli Il titolo Di apertura Nessun corpo Lasciato in mare Il racconto Al mattino Dei giornalisti A bordo Della nave libica Abbiamo i video Dei soccorsi Quando siamo andati via Non c'erano più migranti Ma l'ONG Accusa Fatti a negare Una mamba E il figlio Poi andiamo A centropagina Capri Caos Aliscafi Arrive e partenze Ogni 5 minuti L'isola sotto assedio 219 movimenti al giorno La capitaneria Orari e regole Non decisi Da noi Ancora L'inchiesta Di Roma Droga Il patto Tra l'Andrangheta Il clan 31 gli arresti Casamonica Retata nella Gomorra Di Ostia Andiamo a vedere I principali Quotidiani Sportivi nazionali Partiamo Dalla Gazzetta Dello Sport In apertura Centropagina Credici Juve Via L'operazione Champions Le grandi D'Europa Ai raggi X Con l'arrivo Di Ronaldo L'assalto La Coppa È possibile Il campione Del mondo Matuidi Carica Adesso Il più forte Del pianeta Ce l'abbiamo Noi Nel taglio alto Capitan Inter Riccardi Ricomincia Da Re Prima i gol Poi il rinnovo Due fronti Caldissimi Per il Milan Tass E nuovo Milan Elliot in campo E cresce Leonardo Domani l'atteso Euroverdetto All'Osanna Sabato il board Sale Gazzidis Sio Dell'Arsenal Di spalla Alisson d'oro Superofferta Del Liverpool 70 milioni Per il portiere Della Roma Le mosse Del tecnico Napoli Parte di Avarà La rivoluzione Di Ancelotti Nel taglio basso Notizia che riguarda Sia la A che la Serie B Durissima La procura Della FIGC Chievo E Parma Giù Richieste da Serie B Per i veronesi Meno 15 punti Questa la richiesta Il Crotone sarebbe ripescato Emiliani non promossi Oppure In A Con 6 punti Di penalizzazione E poi Il Tour de France I big si annullano Nibali Ciclismo Come la Formula 1 Poco Spettacolo Andiamo sul Corriere Dello Sport In apertura Il Napoli Ancelotti Scende in campo E telefona Al talento Del PSG Un affare da sogno Napoli Di Maria Benedetto Proprio da Carletto Ancelotti Nel taglio alto Altre notizie di mercato Pipita al Chelsea Può liberare L'attaccante Spagnolo Higuain Manda Morata Al Milan Poi Ronaldo Boom La Juve Più ricca Le azioni Bianconere Cresciute Del 30,6% In pochi giorni Ancora E Allison Se ne va Il Liverpool Offerto 70 milioni La Roma Aspetta Il rilancio Del Chelsea La gente Delle giocatore Atteso Oggi Nella Capitale Scendiamo Parma Rischia La A Palermo Ora spera Nel ripescaggio Per quanto riguarda I processi In FGC Trema Anche Il Chievo E poi Nuova società Sindaco In campo Il Bari Non muore Ripartirà Dalla Serie D Tutto sport Ora Il titolo Di apertura L'effetto Ronaldo Sul mercato Pogba Chiama La Juve C'è CR7 Il campione Del mondo Vuole tornare A Torino I tifosi Del Napoli Sognano Cavani Intanto Rispuntano Benzema E Di Maria Nel taglio alto Le altre notizie Toro Ecco il progetto Iago 2022 L'Atalanta C'è Pasalic Petagna Va alla Spal Il Chievo Rischia La A Il Parma La difende La procura Chiede punti di penalizzazione Per entrambe Poi Fette Lo ravverte Sarà la mia gara Domenica Il GP Di Germania E poi Il ciclismo A Montichiari Sigilli Al velodromo Viviani Sfrattato Questo per quanto riguarda Anche i quotidiani Sportivi nazionali Adesso ci fermiamo Per il break Pubblicitario Prima però Andiamo a vedere Le previsioni Del tempo Con gli esperti Di Meteo 6 E poi torniamo Con la seconda parte Della nostra Rassegna Stampa Eccoci di nuovo Insieme Per la seconda parte Della nostra Rassegna Stampa Riapriamo I quotidiani Abruzzesi Nelle pagine Interne Partiamo dal Primo piano Del quotidiano Il Centro Dove c'è la politica Abruzzo Verso le elezioni Regionali Salvini Non tradirà Gli alleati Storici Centrodestra Grandi manovre Pagano di Forza Italia Invita la Lega Al dialogo Sulla scelta Del candidato Presidente Intanto Oggi Riunione Dell'Ufficio Di Presidenza Della Giunta Per le Elezioni Sul caso Della incompatibilità Del Presidente Della Regione D'Alfonso Ancora La riunione Della Commissione Sanità Sulla legge Scusate Della Commissione Sulla legge elettorale Movimento 5 Stelle All'attacco Solo sperpero Del denaro Degli abruzzesi Dice la consigliera Marcozzi Nel taglio basso Alla scoperta Dei rifugi Del Monte Morrone Escursioni Con il CAI Al Colle Delle Vacche Sabato e domenica Nell'ambito Del progetto regionale RAM Ancora Abruzzo Le tasse E le aziende I dati Della CNA Fisco Ecco dove le imprese Sono tartassate Il report Della Confederazione Artigiani Roseto al primo posto Poi sul Mona Montesilvano E Pescara Bene Spoltore E l'Aquila Nel taglio basso Parco Ok Alle nuove misure Di protezione La regione approva Le norme di conservazione Del SIC Più esteso D'Abruzzo Che interessa 20 comuni Nella pagina Successiva Da Pescara L'appello Per una Contrattazione Inclusiva Siamo Al Convegno Che c'è stato Ieri A Pescara Organizzato Dalla CGL Proprio su Inclusione Lavoro Landini Dice Mondo del lavoro Troppo diviso Diritti Non rispettati E noi possiamo andare a vedere Proprio il servizio Che riguarda Il convegno Che c'è stato ieri All'auditorium Petruzzi A Pescara Contrattare Per includere E il titolo Del dibattito Sul lavoro Intavolato A Pescara Dalla CGL Abruzzo Qualità dello sviluppo E del lavoro Dignità E disuguaglianze Sono tre i problemi Principali Individuati Nel mondo Del lavoro In questo momento Maurizio Landini Componente Della segreteria Nazionale Della CGL Vede favorevolmente Molte delle iniziative Sul lavoro Messe in campo Dal governo Conte E dal ministro Cinque stelle Di Maio Che hanno iniziato A smantellare Il Jobs Act Che dice Ha creato Maggiore precariato Secco Secco Se si vuole Davvero combattere La precarietà Bisogna cambiare Le leggi sbagliate Che in questi anni Sono state fatte E quindi Bisogna cancellare Anche molte altre Forme di lavoro Precario Bisogna ripristinare L'articolo 18 Bisogna estendere Gli ammortizzatori sociali E quindi Per quello che ci riguarda Se quello è l'inizio Bene Se qualcuno pensa Che è già la fine Non ci siamo Perché ci sono delle cose Da cambiare In più Diciamo con molta forza Che se qualcuno Gli viene in mente Di reintrodurre I voucher Nel settore Del commercio E dell'agricoltura Spero che sia Un colpo di sole Visto che è a luglio Se non è così Si deve sapere Che noi ci batteremo Per contrastare Quella che Sarebbe un errore Molto grave A danno di chi lavora Nella platea Dell'auditorium Petruzzi C'era anche Il vicepresidente Della regione Abruzzo Giovanni Lolli Che proprio Nelle ultime settimane Ha presentato Iniziative finanziate Da fondi europei Per incentivare Il lavoro in regione Il segretario regionale Della CGL Sandro Del Fattore Nella sua relazione Introduttiva Ha fatto un plauso All'iniziativa Della regione Abruzzo Ricordando però I ritardi Nell'applicazione Del patto per lo sviluppo E sottolineando La mancata spesa Dei fondi europei Se dovesse indicare Una misura La più urgente Secondo lei Quale Dovrebbe essere Messa in atto Di quel patto per lo sviluppo Di misure urgenti Ce ne sono diverse In primo luogo Dovrebbero per esempio Essere attuate Tutte quelle misure Che danno E che possono dare Una ricollocazione A tutti quei lavoratori E lavoratrici Che subiscono Le crisi industriali Nel patto per lo sviluppo C'era per esempio Questa possibilità E c'era la possibilità Di innovare I processi produttivi Perché l'innovazione Dei processi produttivi È una garanzia Di sviluppo E di futura occupazione Di qualità Per tanti giovani Per questo abbiamo Stamattina Messo in evidenza Le inadempienze Gravi E al tempo stesso Rivendichiamo Una svolta Perché quello A cui teniamo È il lavoro E lo sviluppo Di questa regione Nella pagina Abruzzo della città Troviamo la cronaca Con l'operazione Della guardia di finanza Maxi sequestro Di giocattoli contraffatti Le indagini Della finanza Di Pescara Toccano anche Un deposito Ad Alba Adriatica Cinque le denunce Ritirati dal mercato 1,2 milioni Di pezzi Del valore Attorno ai 5 milioni Di euro Notizia Che troviamo anche Sulla pagina Di Pescara Del messaggero Giocattoli illegali Scoperta la filiera Duro colpo Della finanza Il mercato illegale Di prodotti Dalla Cina Sequestrati 1 milione 250 mila pezzi Il valore Della merce recuperata Supera i 5 milioni Il colonnello Grisorio Dice Tuteliamo I commercianti Onesti E possiamo Andare a vedere Anche questo servizio C'erano tutti I giocattoli Più in voga Al momento Persino le quasi Introvabili LOL Tra il 1.250.000 Articoli Sequestrati Dalla guardia Di finanza Di Pescara Nella operazione Definita Fanni Gammi Giocattoli Delle migliore Marche Contraffatti Oppure Nocivi Per la salute Che potevano Essere trovati Regolarmente All'interno Di negozi Gestiti Sia da cinesi Che da italiani La rete di distribuzione A livello nazionale È stata scoperta Grazie ad un primo Sequestro Compiuto a Pescara Lo scorso maggio Una normale operazione All'interno di un esercizio Commerciale Gestito da cinesi In cui sono stati trovati 450 articoli Senza bollino CE Da qui Con una indagine A ritroso Si è risaliti Ad altri commercianti E grossisti In altre località A Roma Napoli Poggio Marino Modugno Ed Alba Adriatica Il contrasto Va fatto a tutti i livelli Dobbiamo recuperare L'intera filiera Disarticolare L'intera filiera Perché se non si disarticola La filiera Peraltro Molto redditizia Anche se illecita Il problema Continua a ripetersi A livello di venditori La Guardia di Finanza Ha segnalato Alla Camera di Commercio Per le sanzioni amministrative Nove persone Tra italiani E cinesi Che dovranno pagare Complessivamente 225 mila euro Di multe Denunciati All'autorità giudiziaria Invece Cinque extracomunitari Quattro cinesi E un bengalese Per i reati Di contraffazione Di marchi E frode in commercio La Guardia di Finanza Di Pescara Così Ha stroncato Una vera e propria Organizzazione Del commercio illegale Anche se non si configura Il reatto Di associazione Per delinquere Il giro d'affari Era superiore Ai 5 milioni di euro E la valenza Ripeto Va oltre L'aspetto economico Perché qui parliamo Di tutela Di consumatori Della salute Dei consumatori In particolare In questo caso Trattandosi di giocattoli Parliamo esclusivamente Di consumatori minori Anche di tenera età Ma il riverber Ha anche una valenza Sicuramente Straordinaria Anche sotto l'aspetto Della legalità Della tutela Della legalità economica Questo a favore Del mercato Legale Dei prodotti Dei giocattoli Perché aver sottratto Al mercato 1 milione e 200 mila Pezzi Di giocattoli Significa Aver tutelato Quegli operatori Legali Che si impegnano Ad operare Nel rispetto Delle regole Dei consumatori E della legalità In genere Nella pagina Di Pescara Del quotidiano Il centro In apertura La bimba Di tre anni Morta Dopo l'incidente La nostra Francesca Vive ancora Nei tre bambini Che ha salvato Parlano i genitori Della piccola Di Scafa E dicono È stato difficile Firmare per la donazione Ma ora È una consolazione Il papà Gianluca Era una bambina rock Ci ha dato tanta gioia Oggi Dico grazie A tante persone Poi L'omicidio Dell'ex fidanzata Il killer Di Jennifer Sterlecchini Vuole lo sconto Di pena Davide Troilo Condannato a 30 anni Con il legale Ha presentato ricorso In appello Contesta L'antefatto E i futili Motivi Poi ancora A San Donato Un detenuto Incendia la cella I vigili del fuoco Spengono il rogo Del carcere Detenuti evacuati Dalla sezione Intossicati Alcuni agenti Nel taglio basso Ferita dalla vicinanza Per la bolletta Condominiale Momenti di paura In via Trinio La pensionata È stata minacciata Con un coltello E poi picchiata Sul posto Sono intervenuti I carabinieri Ancora mare Ancora i divieti In via Baliglia E via Galilei Il comune Emana l'ordinanza Dopo l'ondata di maltempo Nella notte di lunedì Si tratta di una misura Precauzionale Ma verrà revocata Entro domani Proseguiamo Con i ragazzini Terribili Ladri di bici A 13 anni Stupisce tanta libertà Parla il comandante Provinciale Dei carabinieri Di Pescara Riscaldati Dopo le denunce Della banda Di minorenni Fatto grave Tre di loro Sono di Francavilla Ma le indagini Dei carabinieri Sono ancora In corso Anche qui Ritroviamo L'operazione Della guardia Di finanza Con un milione Di giocattoli Sotto sequestro Nella pagina successiva I vigili sul piede di guerra No alle nuove regole Critica il documento Che approda domani In consiglio Minacciate azioni legali Violati i diritti Degli agenti Di polizia municipale Non lo approvate Oppure Sarà scontro Proseguiamo Con la pagina Di Montesilvano Sempre sul centro Due anni dopo la denuncia Botte alla bimba disabile Condannata Operatrice domiciliare Incastrata dal filmato Di un vicino di casa Che riprese La scena Nel giardino Condominiale Andiamo avanti A fuoco Due mezzi Per la raccolta Dei rifiuti Montesilvano Il rogo Del deposito Di Vianilo Sarebbe di origine Accidentale Il comune chiede Di non penalizzare Il servizio Nella pagina Di Francavilla Le manifestazioni estive Forenfesta Con i concerti Di Zarrillo E Giusi Ferreri Da venerdì a domenica Tre giorni di musica E di divertimenti Nella pagina successiva Parliamo invece Della discarica Di bussi Sette giorni Per avviare la bonifica Ultimatum Della provincia La Edison Se piace tempo Fino al 25 di luglio Per i lavori Richieste ulteriori misure Di sicurezza Nelle aree interessate E nelle acque Di falda Possiamo andare a vedere Insieme Il servizio Un'area di circa 70.000 metri quadrati A bussi sul tirino Inquinata Perché lì Nel corso degli anni Sono stati depositati Rifiuti diversi Da quelli autorizzati E perché È risultata priva Di opere di copertura E di messa in sicurezza È quella composta Dalle ex discariche 2A e 2B Più le zone limitrofe Le responsabilità Di tutto ciò Su Edison S.p.a Ora lo afferma Anche un'apposita Ordinanza Emessa dalla provincia Di Pescara Frutto di anni Di indagini e studi Condotti dalla polizia Provinciale In collaborazione Con Arta Regione Abruzzo E Ministero dell'Ambiente Noi abbiamo anche In qualche modo Fatto Sì Che l'ordinanza Emessa appunto Il 26 di giugno Del mese scorso Fosse chiara Inequivocabile Ed è stata anche Notificata a tutti gli enti Tra cui anche il Ministero La Solvei E chiaramente l'Edison Il Comune Che attualmente È proprietario Del sito Ma essenzialmente Lo abbiamo fatto Perché entro i 30 giorni Successivi Sono tenuti A adempiere Una serie di Procedure Importanti Perché Quell'area Deve essere Necessariamente Bonificata E noi dobbiamo Consentire ai cittadini Alle tante persone Che vivono In quella In quella realtà Di cominciare A pensare Che gli enti Si siano Non solo impegnati A emettere le ordinanze Ma a eseguirle Nei termini di legge C'è qualcosa Che non va però Ed è il processo Di bonifica Che non si è ancora attivato Un fatto Che suscita la stizza Del sindaco di Bussi Salvatore Lagatta Noi siamo molto preoccupati Ho fatto l'incontro Al Ministero La settimana scorsa Ho scritto una lettera Al Ministro Subito dopo l'incontro E ho purtroppo Scoperto Che nella sostanza È tutto fermo Cioè il Ministero Ha proceduto A finire la gara Ha individuato L'azienda Ma da quella data Ad oggi Nulla si è mosso Vi dico Non c'è il progetto Definitivo Non c'è il progetto Esecutivo Non c'è un quadro economico Non è stato individuato Il direttore dei lavori Non è stato eseglato Il contratto Non c'è stato Il trasferimento Delle somme Dal capitolo speciale Ai capiti L'ordinario È tutto fermo E questa non può essere Una casualità Qualcosa c'è Ho già attivato Una messa in muore Del RUP E la prossima settimana Se non avrò segnali Precise Anche da parte Del Ministero Mi attiverò Nel confronto Del Ministero Nella pagina Di Pescara Area metropolitana Del messaggero Giro d'Italia L'ite tra Ditta e provincia Un anno dopo Sono ancora Da pagare I lavori sulle strade Il caso approda In tribunale Mai versati I 700 mila euro Del bando Esigibili nel 2017 Esposto Alla Corte Dei Conti Passiamo adesso Alle pagine Di Chieti Sempre sul Messaggero Il titolo di apertura Della pagina Tiatina Ateneo Adriatico Via libera Del CdA Al cambio di nome Al di là Del rinvio Formare La decisione In sostanza Si può considerare Già presa Di primio Condivido L'operazione Darà più visibilità All'università Il rettore Caputi Guarda avanti Annuncia Al CdA Di voler acquistare Il palazzetto Dei veneziani In centro storico A Chieti Ancora Si spaccia Per il cognato Rischia 5 anni Di carcere L'articolo Di spalla E poi Nel taglio basso Maxi frode Da 190 milioni 73 indagati Dalla finanza Questa mattina Ci sarà La conferenza stampa Per i dettagli Proseguiamo Il Central Park Non è più Spazio open Cambio strategico Nella concezione Dell'infrastruttura A Lanciano Che verrà realizzata Con un milione Di euro Del master plan Il sindaco Pugillo Spiega Con il vecchio progetto Non ci sono le condizioni Per garantire La sicurezza Prima di passare Le pagine Di Teramo Andiamo a vedere La pagina di Chieti Sul quotidiano Il centro Anche qui in apertura C'è l'università Dell'Adriatico Ateneo Si va al cambio di nome Ma non per ora Il CDA della D'Annunzio Approva la proposta Del rettore Ma Caputi Vuole prima parlare Con le istituzioni Nella pagina successiva Fatture false Per 190 milioni 73 indagati Le fiamme gialle Scoprono Una vasta e ramificata Associazione a delinquere Per frodare il fisco Con 36 ditte coinvolte E ancora Il testamento biologico Ortona C'è il registro Le disposizioni anticipate Di trattamento All'ufficio dello Stato Civile Del comune Il vice sindaco Polidori Noi attenti ai temi Che coinvolgono La coscienza Dell'uomo Andiamo ad aprire La pagina di Teramo Sul centro Le nomine Ecco i nuovi assessori Giunta ad Alberto Nel segno Delle donne Il primo cittadino Di Teramo Sceglie Marroni Come vice sindaco Delega importante Assegnate a Di Padova E a Falini Queste Le nomine Oggi ci sarà Il consiglio Comunale Proseguiamo Con la lettura Del centro Nelle pagine di Teramo Cittadinanze Fasulle 22 indagati Residenze fittizie A brasiliani A Roseto Pineto Notaresco E Castellalto Accusati Titolari Di Agenzie E Dipendenti Comunali Notizia che ritroviamo Anche in apertura Sulle pagine di Teramo Del messaggero Cittadinanze Troppo facili Vigili Ufficiali Di Stato Civile Nei guai Sentiamo I dettagli Nelle interviste Realizzate A margine Della conferenza stampa Che c'è stata ieri In procura A Teramo Allora Diamo un attimo di tempo Alla regia Per far vedere Il Per mostrarci Il servizio Dell'operazione Che è stata Detominata Cidadania Che in portoghese Vuol dire Cittadinanza Vediamo La facenda Riguarda Centinaia di Cittadini Di origine Brasiliana Che hanno Con la connivenza Di agenzie E di autorità Locali Acquisito Rapidamente E falsamente La cittadinanza Italiana Simulando La loro stabile Residenza Nella provincia Di Teramo Senso che Ciò fosse vero Le indagini In modo Incomiabile Sono state Sviluppate Dalla squadra Mobile Della questura Di Teramo E hanno Consentito Di accertare Da parte Della procura Di Teramo Un sistema Ben oliato Che riguardava Centinaia di pratiche E in cui Diversi comuni Della provincia Di Teramo Con la connivenza Di agenzie E autorità Locali Falsificavano Tutta una serie Di accertamenti Per far risultare Queste persone Di origine Brasiliana Cittadini Di fatto Italiani Quando ciò Non era vero L'indagine Molto lunga Molto complessa Perché la materia È molto Molto articolata Ha richiesto L'impegno Di tantissimo Personale E l'acquisizione E la lettura Soprattutto Di un voluminoso Carteggio Entro qui Andare a leggere Queste violazioni Di reati Contro la pubblica Amministrazione Sicuramente Andrà avanti Ritengo che Teramo In questa situazione Abbia squarciato Un velo di omertà Su questo fenomeno Ma soprattutto Diciamo che L'ufficio Ha fatto un grande Salto di qualità Perché ripeto Sono reati Di difficile accertamento Attualmente In questa prima Trance Sono state eseguite Dieci ordinanze Applicative Di misure cautelari Del diritto Di dimora In tutti i comuni Della provincia Di Teramo L'indagine Sta proseguendo E attualmente Ci sono altre persone Coinvolte E sono al baglio Del GIP La loro posizione Si tratta Chiaramente Di tutti quei Pubblici ufficiali Dei comuni coinvolti Quindi ufficiali Dello Stato Civile E vigili urbani Che ovviamente Concordavano E facevano parte Di questo accordo Che consentiva L'accelerazione Nella pratica Con i titolari Delle agenzie Colpiti oggi Invece Già da questi Divieti di dimora Il titolo Della città Su questa notizia Eccolo qui Smantellato Il business Degli avi Brasiliani Le richieste Divieto di dimora Per gli intermediari E sospensione Dal servizio Per gli impiegati Comunali E i vigili Urbani Andiamo avanti Le scelte Del sindaco D'Alberto Per la giunta D'Alberto Presenta la giunta Che aveva In mente Marroni vice Melarangelo Presidente Mistichelli Al sociale E dentro La falini Confermate Le indiscrizioni Appunto Del giornale Questa mattina Alle 9.30 Primo consiglio Comunale All'ipogeo Per il sindaco D'Alberto Con giuramenti Elezione Del presidente Del consiglio E discorsi Di indirizzo Chiaramente Vi daremo Conto Nel corso Delle prossime Edizioni Della nostra Informazione Alle 14 Alle 19 Alle 23 Con il TG6 Andiamo avanti Scooter Scaraventati A terra Erano atleti Dell'Interamnia I carabinieri Li hanno beccati Sul fatto In zona Anfiteatro Sempre a Teramo Tutti assolti Per la rissa Di Capodanno Mazze E cinghiate In Piazza Dante Chiuso Uno dei processi Della faida Tra rossi E neri Andiamo Nella pagina Successiva Furti Nei palazzi Vip Abbandonati Sciacalli Nella casa Inagibile Del professor Rassicci Distrutto L'archivio E poi La moglie Lo lascia Lui la trova E la perseguita Caso che arriva Da Martinsicuro E poi A Corropoli Corsa a due Per la portrona Del sindaco D'Annuntis Se il primo cittadino Si dimettesse Per la regione Già pronti Vallese E Ricci Lutto cittadino A Giulianova Al porto L'ultimo addio A Donenio Lucantoni La salma Del paroco Del Lido Portata in processione Dalla folla Radunata La chiesa Della natività Altri funerali Alza il volume Facci ballare Ciccio benzina DJ La salma Dell'animatore Stefano Tulli Accolta da due Ali di folla Rientro Da Santo Domingo Il comune Affida Lo Iat Al proloco La notizia che invece Arriva da Roseto Con la riforma regionale Le tre associazioni Gestiranno la promozione Turistica Rosetana Andiamo sul centro Ad aprire le pagine Dell'Aquila La città Col fiato sospeso Restituzione delle tasse Rinvio allarmante Il decreto terremoto È fermo alla Camera Ma il tempo stringe E le aziende Corrono il rischio Di non ottenere La proroga E poi Nel taglio basso Comprano Con banconote False tre arresti Colpi Messe segno A Barisciano E San Demetrio Nella pagina successiva Commissione Grandi Rischi Bertolaso assolto anche in appello Nel processo bis Intentato Dalle parti civili Per le informazioni Sulle terremoto Del 6 aprile 2009 L'ex capo Della protezione civile È stato sollevato Da ogni responsabilità A ottobre La Cassazione E poi Rocca di mezzo Annullate le elezioni Il Consiglio di Stato Ha respinto il ricorso Contro la sentenza del Tar Ritorno al voto A primavera Del 2019 Ferisce il marito Accoltellato E rodante la lite Il fatto è accaduto Ieri notte A Camarda L'uomo non è grave Tempestivo L'intervento Delle forze Dell'ordine Prima di passare Allo sport Andiamo a completare La lettura Delle pagine dell'Aquila Anche sul messaggero Lavori Lumaca Fanno passi avanti Ex magistrali E ponte Belvedere Al via La demolizione Dell'edificio di Villa Gioia Che ha ospitato Generazioni di studenti Al suo posto Sorgerà lo stabile Del civico 207 Prima del sismo Ubicato Nell'area di porta Barete Per il viadotto Proposta la sostituzione Della campata centrale In acciaio E calcio Pestruzzo Armato Andiamo avanti Mancato Allarme Capitolo Chiuso La corte d'appello Ha confermato L'assoluzione Nel processo Satellite Per l'ex capo Della protezione Civile Guido Bertolaso Il legale Di Naci Mi auguro Che questa sentenza Possa definitivamente Portare a una Pacificazione Sociale Andiamo a vedere Anche la pagina Di Avezzano Sulmona Agli arresti Ma continua a molestare L'avvocato Casciere Interviene Sulla vicenda Del noto Medico Avezzanese Minacciato Da uno stalker Finito ai domiciliari Nonostante la denuncia E tentativi di stop Di forze dell'ordine Magistratura La persecuzione Continua Andiamo adesso Ad aprire La pagina Dell'Abruzzo Sport Sul quotidiano Il messaggero Pescara Memushai Risuona La carica Il centrocampista Albanese È tornato Al Delfino Dopo un anno Al Benevento Faremo davvero Un gran campionato Ed è uno degli acquisti Doc Della società Per quanto riguarda Il mercato Antonucci C'è ma manca Un terzino Ai Biancazzurri Un Tris Dassi Sono Gagliolo E poi Crivello E Felicioli Profili monitorati Dal club E qui vedete La stretta di mano Fra Antonucci E il presidente Sebastiani Per questa trattativa Per il gioiellino Della Roma Che è andata In Porto E poi ancora Il futsal Slittano I termini Per le iscrizioni Prorogate A venerdì Le scadenze Per i campionati Di calcio A5 Di serie A A2 B e A Femminile Nella pagina successiva L'Aquila Ancora una penalità Per la formazione Del capoluogo Un altro punto di penalizzazione Gli imprenditori aquilani Si sono tirati indietro E ora cresce Il malcontento Tra i tifosi Per la serie C Teramo Al via la stagione Del riscatto Oggi ritrova Appenna Sant'Andrea A ritiro Fino al 12 Di agosto Da domani Inizierà per il diavolo Il lavoro atletico Agli ordini Del preparatore Daniel Perazzolo Andiamo a vedere Anche la serie D Colpo Vastese In difesa Arriva il centrale Molinari Per quanto riguarda Il mercato Dei dilettanti Nel taglio basso Il pineto Batte altre due colpi In arrivo Mazzei e Masse E poi la seco a Bologna Per chiudere le trattative Di mercato Invece per quanto riguarda Il volley Sulla pagina Abruzzo Sport Del centro Ritorniamo in Serie B Con il valser Dei bomber Raio la promette Scamacca al Pescara La gente dell'attaccante Del Sassuolo Apre al Delfino E con la scomparsa Del Bari Nenè Diventa una pista Percorribile Questo per il mercato Ancora Canutè E un giallo Cessione vicina Il mediano Non è in ritiro A Palena Ascoli Verona E Foggia Sono alla finestra Nella pagina successiva Teramo Ecco Persia Io Totti E la Roma Il mediano Marsicano Stavo per smettere Qui una grande chance In giallo rosso Per quattro anni Sono cresciuto Con Tummiello E Marchizza Dopo un brutto infortunio Volevo lasciare Devo tutto a Giampaolo E all'Avezzano Nel taglio alto Alle 18 Il raduno All'Hotel Vomano In prova Vitalex Pescara Domani Gli allenamenti Al Bonolis Per quanto riguarda Sempre il Teramo Nel taglio basso L'eccellenza Il Nereto Ufficializza Chiacchiarelli La Torrese Prende il difensore Rinaldi In promozione Il Castelnuovo Si assicura Il portiere Cattenari Andiamo in Serie B Con il mercato Molinari a Vasto Per disputare Un grande campionato Fatta per il difensore Reduce Dalla stagionale Albissola E per il terzino Di Giacomo Delle giovanili Del Pescara E poi Pineto Mazzei Si aggiunge a Sieno Russo E Massa Vezzano Nel Mirino Ceschirone 9 agosto Test Contro il Teramo Il Francavilla Oggi La presentazione Del tecnico Rachini San Nicolò Notaresco In arrivo Anche Cianci Fiscaletti E Marcelli Andiamo invece Nel taglio basso L'Aquila Un'altra penalizzazione Per le vertenze Non pagate Nel caos Salgono a 3 Punti in meno Per la prossima stagione Il Giulianova Su Giosuè E Borgese E per la porta Spunta Recchiuti Sfuma Il ritorno Di Bontale Manovre Del presidente Bartolini Nella pagina successiva Il basket Dia 2 Con la caccia Al secondo americano Roseto C'è Person Junior Nel Mirino Gli Sharks Sulle tracce Del 23enne Figlio d'arte Una guardia Tiratrice Forte fisicamente Che chiuderebbe Il mercato Il Tour de France Dominio Al Philippe Già la tiene Il francese Stacca tutti Nella prima tappa Di montagna Van Avermacht Sempre in testa Per quanto riguarda Il Tour Andiamo ancora Avanti Il Terramano Si racconta Dei magi più forti Della malattia Il basket E passione Il capitano Della nazionale In carrozzina Sabato premiato Come sportivo Abruzzese Dell'anno Al Rocky Marciano Andiamo Sulla città Andiamo ad aprire La pagina Di sport Che riguarda Il Teramo Eccola qui Il Teramo Prepara La stagione Del riscatto Inizia il ritiro Biancorosso Ma nessuno Può garantire Che il progetto Avrà valore Fino alla fine Comincia un nuovo progetto Finora il diavolo Ha provato a darsi Una certa programmazione Cosa che ha tentato In più di una circostanza Anche nelle passate annate Che questa sia Davvero quella buona Scrive il nostro collega Jacopo Forcella E poi Nel taglio basso Il basket Teramo Basket Ora è ufficiale L'arrivo Dell'ala Simone Aromando Il giocatore Brianzolo Reduce da un ottimo Campiotanto Disputato con la casacca Di Faenza Soddisfatto Coach Domizioli E con questa notizia Si chiude la nostra Rassegna stampa Io vi ringrazio Per averci seguito Anche questa mattina Vi ricordo L'appuntamento Con la nostra informazione Con il TG6 Delle ore 14 E poi con la seconda edizione Alle ore 19 La terza Alle 23 Grazie ancora E buon proseguimento Di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti